Mi sono infortunato al polpaccio, ragazzi, ma volete ridere? È venuto giù il nubrifragio, stavo sul campo da padel, a un certo momento ho sentito una scossa dentro, come se addirittura la vista mi è diventata bianca, sul polpaccio, io pensavo che era caduto un fulmine, e mi aveva preso, quindi mi sono rotolato per dare la scossa, scappate via tutti, tutti che guardavano, perché prima c'era stato un caldo di tensioni e delle luci, ma in realtà mi sono solo fatto male, spero, adesso devo fare l'opografia, ma è stata comica anche nel farmi male, so comico, quindi la scossa, la scossa, mi rotolavo per terra, tutti spaventati, Dio buono, aiutaci tu. Stavamo a giocare noi quattro, tra l'altro quanto stavamo, Alvaro vince? Facile, 5-2. 5-2 noi, a un certo punto che è arrivata? La scossa. Come ho fatto? Come ho fatto? La scossa, la scossa, non la scoppiamo. Bianco, bianco la faccia bianca. Vabbè, ci rifaremo, già abbiamo vinto però. Eccoli i polletti, no, 5-2 stavo, 5-2 per noi. Subito la prontezza di Lorenzo, stai a guardare il cellulare o stai a fare, che cazzo di cane stai a fare? No, adesso la lascio. Ecco la professionalità. Ah, arco! No, Lorenzo è bravissimo. No, è veramente, ragazzi. Sono degli angeli, subito, tatanno. Stavo a fare sull'altro polpaccio, eh. È il destro mio. Comunque, temiamo uno? Uno che? Che temiamo? Uno che? Uno strappo? Non ci sa, non ci sa. Ecografia, ecografia. Venerdì. Mamma mia, quanto mi fa male sto cazzo di polpaccio. Vai, se è tutto pronto. Tra poco vieni sul nonno e vedremo la partita insieme. Io sto messo così. Però, oh, non male, eh. Bella vista.